Continuando, come nelle due lezioni precedenti, sul tema dei siti generati dinamicamente, andiamo ora a guardare un po' più da vicino una nuova caratteristica di Dreamweaver CS5, i suggerimenti codice potenziati. Devo vedere di che si parla. Chiudiamo la nostra pagina index.php e ho appena preparato una pagina che si chiama index2.php. È un file completamente vuoto, come potete andare a vedere nel codice, che ha solo l'estensione .php. Vediamo quindi più da vicino che cosa intendiamo con autocompletamento codice potenziato. In questo caso inizierò facendovi vedere il vecchio sistema, o meglio il sistema che ancora funziona, ma non per linguaggi evoluti di programmazione come il PHP ad esempio. Semplicemente aprendo uno di quelli che è la tipica sintassi di un tag HTML, mi veniva restituita la lista di tante possibilità appunto di linguaggio un po' misto tra l'HTML e il CSS, quindi di linguaggi comunque di base per Dreamweaver. Ma se il linguaggio in questo caso non è più uno di quelli standard di default come l'HTML e il CSS, cosa accade? Proviamo quindi a iniziare una piccolissima sintassi di PHP, quindi minore, punto interrogativo, PHP, e andiamo a vedere in questo caso come andare a richiamare parti importanti di codice o suggerimenti di codice in formato PHP. A differenza di quello che abbiamo visto prima che appariva automaticamente per quello che riguarda l'HTML e CSS, qua dobbiamo richiamare una combinazione di tasti, control, barra spaziatrice. Come vedete mi vengono già indicate tutta una serie di suggerimenti, davvero importanti perché, oltre che di globali come vediamo in questo caso, vengono suggerite anche le costanti. Chiunque ha a che fare un po' con il linguaggio PHP sa benissimo che ricordare tutte le costanti, che molto spesso sono anche particolarmente lunghe, è una cosa davvero improbabile. Ma andiamo avanti. Anche scrivendo ad esempio il famoso echo, ci vengono suggeriti le altre varie possibilità, partendo da una stringa di questo tipo. Molto bene, ma nel caso nostro specifico, fino adesso ci siamo riferiti e abbiamo avuto a che fare con un sito dinamico particolare, un CMS, basato sulla struttura di WordPress. WordPress ha tutta una sua libreria specifica di snippet, righe di codice, sintassi in PHP, che solitamente iniziano con WP. In questo caso, anche con la combinazione di tasti control e barra spaziatrice, non ottengo nulla, perché ovviamente non appartiene ancora, almeno non ancora, alla libreria di autocompletamento codice di Dreamweaver, suggeriamoglielo. E quindi di nuovo il menu fondamentale, sito, suggerimenti per il codice, specifici per il sito. Richiamo questo menu e come vedete, in automatico, Dreamweaver riconosce che stiamo parlando di una struttura WordPress. Fosse stata di Joomla o di Drupal, l'avrebbe capita automaticamente, senza il bisogno di indicazioni da parte nostra, dove comunque, da un menu a tendina, possiamo andarle a richiamare. Questo nuovo da vuoto che vedete, in realtà, è la possibilità che a ognuno di noi, nel caso avesse sviluppato un proprio framework personale, di educare Dreamweaver all'autocompletamento del proprio codice personale. Ma andiamo avanti, scegliamo OK. Cancelliamo adesso di nuovo WP, proviamo a riscriverlo e a richiamare di nuovo la combinazione di tasti, control e barra spaziatrice. Come potete vedere, mi vengono suggerite tutta una serie di funzioni, di globali, di costanti, tipiche di WordPress. WordPress ha però, ovviamente, rispetto al PHP classico, una quantità molto ristretta di stringhe di codice. Possiamo, eventualmente, utilizzare anche questa funzione, ad esempio, come una sorta di modalità per imparare, magari, WordPress, o richiamare classi, costanti, globali, funzioni varie, che non conosciamo molto bene. W underscore H A è una funzione hash tipica, per esempio, per le password, per gli schemi, o per altri tipi di passaggi di dati. Viceversa, se invece volessi, per esempio, andare a cambiare il footer, o volessi includere una porzione di un footer, potrebbe essere un'idea intelligente, quella di farsi suggerire del codice proprio sulla combinazione di lettere. F O O. Come dicevo prima, la quantità di codice di WordPress non è infinita, e quindi, al solo digitare di F O O come footer, mi viene dato, già subito, il general template, che si riferisce al tipico footer di WordPress. Durante questa lezione, abbiamo potuto vedere la nuova caratteristica di Dreamweaver, dell'autocompletamento del codice dinamico, in questo caso specifico PHP. Abbiamo visto anche un po' di più. Abbiamo visto, cioè, come questo sistema di autocompletamento si possa applicare anche a framework specifici, come quello di WordPress. Vale la pena ricordare che questa nuova caratteristica, combinata con le altre due viste nelle lezioni precedenti, come il codice dal vivo e l'impostazione di siti correlati dinamicamente, mettono a disposizione dei web designer più orientati al codice, o che vogliano interagire in maniera più profonda con i sistemi di CMS, tutta una serie di strumenti non presenti nelle versioni precedenti di Dreamweaver.